e il pelle di pesce è esattamente razza perché la razza che è quell'animaletto con le lette si quello che dà la scossa ha una pelle sottilissima e molto resistente che è perfetta per suonare questo strumento qua, faccio sentire sempre un ritmo del marocco si può andare avanti per ore questo è il suono di questo strumento a calice perché è proprio a forma di calice un altro tipo di tamburo a calice, questo viene invece dall'Iran che è in Asia è come quello lì ed è però costruito in legno e ha una pelle diversa, questa è una pelle, non è di pesce perché di pesci non ce n'è di cammello? eh? no, dove è? pelle di cammello sembra un piccolo tubo si, infatti, è anche uno scappello infatti molti... no, fermo, questo è un scappello questo è unмовissimo non troppo Sanirato è un paese Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.